questa sera garbagna si illumina con una stella del calibro di marina massironi tra l'altro vincitrice di un nastro d'argento di un david di donatello per il film pane tulipani questa sera ci presenta era uno spettacolo che si intitola la somma di due quanto fa la somma di due marina uno e non è un'opinione proprio il finale insomma la somma di tutto lo spettacolo diciamo questo è un testo molto bello un testo di lidia ravera il sottotitolo è sorellina perché parla di due sorelle adolescenti che sono separate dal divorzio dei genitori una va a vivere a parigi col babbo l'altra resta a roma con la mamma ed essendo ambientato tutto a fine anni 80 primi anni 90 non ci sono i telefonini e quindi si devono scrivere carta e penna bello ed è un testo molto ironico graffiante anche tenero e insomma molto interessante anzi anche una valenza in più perché diciamo che insomma lavorare sulla distanza e sul ricongiungimento è una cosa che su cui stiamo lavorando anche noi nei nostri tempi no per cui ecco quindi può essere interessante anche divertente benissimo che te ne pare di calpagna ma è una delizia un gioiellino io non la conoscevo per niente a parte che mi hanno insomma ho già degustato delle cose buonissime vini formaggi questo formaggio leonardesco insomma tutte le cose di presidi eh sì abbiamo tanti prodotti eh sì infatti poi il paese è davvero una delizia è proprio un borgo è uno dei borghi più belli d'Italia eh sì se lo merita benissimo ti ringraziamo tantissimo grazie a voi non aspettiamo nient'altro che vederti questa sera bene ci sarò grazie a Marina Massironi grazie a voi insieme a Marina Massironi reciterà nello spettacolo la somma di due Nicoletta Fabri allora facciamo due domande anche a Nicoletta cosa fa la somma di due Nicoletta? la somma di due ecco nel nostro caso diciamo che fa uno perché rileva una unità molto forte una simbiosi di intenti e di azioni però posso dire che così come fa uno fa tanti numeri insieme a seconda di tutte le volte e tutti i casi in cui si questi intenti e queste azioni si possono riprodurre e moltiplicare bene e qui a Carpagna al porco delle storie cosa ne pensi cosa ti sembra di Carpagna? è un luogo meraviglioso non solo per la bellezza del paesaggio su cui non c'è nulla di da commentare ma anche per l'accoglienza che abbiamo ricevuto in questo luogo straordinario persone bellissime una cultura enogastronomica è vero che io provengo dalla Romagna e in qualche misura apprezzo molto anche queste cose qui è un luogo bellissimo siamo molto felici di aver portato questo spettacolo questo testo di Lidia Ravera qui in Piemonte dove fra l'altro una prima ancora del periodo delle chiusure dei teatri dovuto al coronavirus in qualche misura ha dato prova delle sue prime repliche benissimo allora aspettiamo questa sera e non vediamo l'ora di vedere te e Marina grazie moltissime Nicoletta Fabri per Tortona Oggi TV grazie a tutti